Amava prendere il sole l'estate, ma proprio mentre si stava abbronzando, stessi in uno sdraietto sopra il tetto del garage, si è sentito male ed è morto. Franco Panfili, 58 anni, operaio, residente nel quartiere di Torre, è stato stroncato da un malore fatale sabato pomeriggio. L'uomo, dipendente di una ditta di curtarollo, era solito rilassarsi, abbronzandosi sopra il tetto del garage, incurante di caldo e afa, che questi giorni avevano reso irrespirabile l'aria in città, con temperature che hanno superato i 40 gradi. Dopo le 13 di sabato ha approfittato del tempo libero, nonostante gli avvertimenti della sorella con cui viveva da più di una decida d'anni, che l'aveva come di consueto ripreso per questa sua abitudine, ma il 58enne si è steso comunque al sole, quando la sorella, 4 ore più tardi, è andato a svegliarlo, credendo che dormisse, lo ha trovato privo di vita, nonostante i tentativi di rianimazione dal parte del suo M118 a corso sul posto, non c'è stato nulla da fare.